Nel sistema portuale italiano presto conteremo meno che nulla, visto che l'autorità portuale andrà, restando così le cose a Gioia Tauro, porto in fortissima crisi e meta degli sbarchi della droga dell'Andrangheta Calabrese, ma il nostro porto, come traffico passeggeri, resta uno dei più importanti d'Italia. Il 2017 vedrà i porti siciliani confermare il milione di passeggeri condotti nell'isola da una trentina di compagnie internazionali e in particolare Messina registrerà una crescita del 5% di croceristi, un dato importante perché è in controtendenza rispetto al calo del 9,68% previsto nei porti italiani nell'anno in corso. Il dato è stato fornito nel corso di un appuntamento nazionale organizzato da Assoporti, che ha visto in vetrina i maggiori 30 porti italiani, è stato dato dal commissario straordinario dell'azienda portuale di Messina Milazzo e vicepresidente di Assoporti, Antonino De Simone, che ha guidato la delegazione siciliana composta da Cristiana Laura, dell'autorità portuale di Messina, Roberto Nanfito e Laria Tomasi, dell'autorità di Catania, Daniela Mezzatesta, dell'autorità portuale di Palermo. Fra le strategie di marketing territoriale intraprese nella promozione di nuovi itinerari e alla scoperta delle infinite bellezze della Sicilia, i porti siciliani hanno potuto sfruttare anche l'importante canale fornito dall'Associazione Internazionale delle Compagnie Croceristiche, che nei suoi eventi agevolano le relazioni e il confronto fra armatori e destinazione. Così Catania ha presentato la nuova strategia di marketing con un video e una brochure in lingue cinese e inglese, destinata in particolare al mondo cinese. Messina invece ha sottoscritto un interessante protocollo d'intesa con alcuni porti delle isole del Mediterraneo occidentale, dalle Balearie a Malta, dal Ghero a Aghiaccio, per la promozione congiunta presso le compagnie croceristiche di un itinerario che tocchi tutte le realtà messinesi, Milazzo compresa.